Dobbiamo rifare bene, oh, mo partiamo giusti, con il sole a flash. Chi è che vuoi? Il tiro è a montare le capanne di Babbo Natale. Anche a mo'. Eh, caro mio. Oggi com'è il giro? Ho un giro tranquillo. L'ultima volta che hai detto così, Spampi mi ha detto, te oggi vai a casa a piedi, con la moto, perché io la moto sul canale non te la metto più. Fai te, Spampi, Spampi. Oh, sta bene. Mica serie di cancelli. Maremma. Qua c'è niente, vai qua, vengono giù, 4-5 moto, figa. Vengono giù, quella... E ha messo quello di alluminio davanti per tenere fermo tutto il sferro dietro, eh. Ah, meno male, meno male. Non funziona, non vanno. Eh, figurati, eh. Immaginassi. Echoo. Dove è Leo? A porco. Wow. D'accordo. Perciò, grazie. Qualcun program.